Buongiorno. Buongiorno. Salve, sto cercando un fiore nero. Buongiorno. È perfetto. Buongiorno. Cosa? Buongiorno. È la parola più perfetta al mondo. Inventata in Italia, l'ho appena scoperta. Che vuol dire? È questa la cosa feca, un milione di cose, tipo, non lo so, levati di torno, non lo so e levati di torno. È la cosa migliore che abbiano creato, a parte il caffè espresso. Ah, allora ti sei datato di spesso. Signorina, tedeschi, americani, una rosa. Buongiorno. Vero. Buo è il mio nuovo superpotere. È la titesi di aloe. È proprio la mia parola. Cos'è lì dentro? Oh, eh... Buongiorno. Fico. Buongiorno. 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 Grazie.